Sto vedendo in giro molta negatività ed avversione nei confronti dei pacchetti snap. Non solo dai commenti ai miei video, ma anche andando in giro su internet, vedi per esempio Linux Mint, che si vanta non solo di non avere nessun pacchetto snap installato di default, ma addirittura di vietare l'installazione dei pacchetti snap. E questo viene considerato come un punto a suo favore. Ma tutta questa negatività nei confronti dei pacchetti snap è davvero giustificata? Prima di continuare ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano, iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Se vuoi una rinfrescata di cosa siano i pacchetti snap, flatpak e appimage, ti consiglio di dare un'occhiata ad un mio precedente video che tratta l'argomento. Andiamo con ordine. Prima di tutto, cerchiamo di capire perché c'è bisogno di pacchettizzare software con snap, flatpak o appimage. Mettiti nei panni di uno sviluppatore software. Hai scritto la tua bella applicazione grafica? Oppure hai scritto un plugin audio per una specifica digital audio workstation? Oppure hai scritto numerose utilità di comando? Oppure hai scritto un driver per una nuova stampante? Qualunque software tu abbia scritto, vuoi rilasciarlo al pubblico, di modo che possa venire utilizzato dal maggior numero di persone. Visto che esistono centinaia, se non migliaia, di distribuzioni Linux, è improponibile che tu ti metta a pacchettizzare il suo software per tutte quelle distribuzioni e magari non troverai mai nemmeno un packager che voglia pacchettizzare i tuoi software nelle tre o quattro distribuzioni principali. Ecco quindi che snap, flatpak e appimage ti consentono di distribuire il tuo software senza bisogno di dipendere dai packager delle varie distribuzioni. Già, ma questi tre formati che spesso vengono citati assieme hanno tutte e tre le stesse caratteristiche e gli stessi campi di utilizzo? Analizziamo i tre formati da un punto di vista prettamente tecnico. Sia flatpak che appimage sono pensati per pacchettizzare esclusivamente applicazioni. Quindi, hai scritto un'applicazione grafica? Ottimo, allora flatpak e appimage fanno per te e anzi forse sono la scelta migliore. Ma attenzione, abbiamo visto che non tutte le software che scrivi sono applicazioni. Se hai scritto un plugin audio per una digital audio workstation oppure il driver di una stampante per esempio, allora flatpak e appimage non vanno bene. Ma non solo, flatpak e appimage non permettono di pacchettizzare più di un eseguibile per pacchetto. Quindi, se hai scritto numerose utili tra linea di comando, non puoi metterle tutte nello stesso pacchetto. Snap, oltre che permetterti di pacchettizzare applicazioni, ti permette di pacchettizzare anche qualunque altro tipo di software e puoi mettere tutti gli eseguibili che vuoi all'interno dello stesso pacchetto. Quindi, dal punto di vista di flessibilità, Snap non ha rivali. Alan Pop, ex dipendente Canonical che era uno degli sviluppatori principali di Snap, ha sì scritto un'utility per disinstallare gli SnapKey nel sistema e rimpiazzarli con flatpak. Ma la realtà, almeno al momento della registrazione di questo video, è che flatpak non ha tutti i campi di applicazione che ha Snap, quindi è tecnicamente impossibile rimpiazzare tutti gli Snap con flatpak. Altra differenza prettamente tecnica di questi tre formati è il loro approccio alla sandbox. Per chi non lo sapesse, la sandbox non è nient'altro che un modo per limitare le risorse che un'applicazione può vedere. Per esempio, un'applicazione può leggere e scrivere file solamente in una determinata directory, oppure non può accedere al microfono webcam, e così via. In teoria, la sandbox, se implementata bene, aumenta la sicurezza del sistema. Già, se implementata bene. Se implementata male, invece, o da un falso senso di sicurezza, oppure intralce il funzionamento dell'applicazione. Voglio raccontarti di una mia esperienza fatta a cavallo tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020. Per lavoro dovevo scrivere del firmware per un microcontrollore con architettura Leon3, per cui avevo la toolchain GCC e GDB Custom per fare cross-compiling per quell'architettura. Per debuggare il firmware, volevo usare un debugger grafico che si appoggiasse alla versione custom di GDB, per cui ho voluto provare VSX installandolo da Flatpak. Ho bestemmiato in cinese per due giorni, perché a motivo della sandbox non ero in grado di far dialogare VSX e la versione custom di GDB. Dopo due giorni di insuccessi, decido di disinstallare la versione Flatpak e di installare la versione Snap. Nota come, a differenza di Flatpak dove tutte le applicazioni girano per forza in una sandbox, per quanto riguarda i pacchetti Snap, è possibile pacchettizzare un software o con o senza sandbox. Se nell'istruzione di installazione di un pacchetto Snap vedi l'opzione meno meno classic, significa che questo Snap gira senza la sandbox. Inutile dire che la versione Snap di VSX ha dialogato con la versione custom di GDB senza il minimo problema. Un'altra mia esperienza è dove lavora adesso, che ho scritto e sto mantenendo un software per mobile basato sul framework Flutter. A parte che Flutter è disponibile esclusivamente come pacchetto Snap, non solo per ragioni politiche, ma come abbiamo visto poc'anzi soprattutto per ragioni tecniche, visto che Flutter non è un'applicazione, ma un framework per sviluppare applicazioni. Ma poi, per debagare le applicazioni Flutter, ho bisogno di farle girare su un emulatore Android che trovo incluso in Android Studio. Sebbene esista la versione Flatpak di Android Studio, me ne sono guardato bene dall'installarla, per via dell'esperienza che ho avuto fatto un paio di anni fa con GDB. Quindi ho installato direttamente la versione Snap di Android Studio e non ho mai avuto nessun problema. Quindi la sandbox fa più male che bene? Assolutamente no. Semplicemente ci sono occasioni dove la sandbox serve e occasioni in cui la sandbox è solo d'intralcio. Per esempio, non mi sognerei mai di far girare un software proprietario tipo Steam senza sandbox. Quindi, per esempio, per Steam, Flatpak è il formato ideale. Se ti stai domandando che significa quel non proprio per quanto riguarda AppImage, è perché i pacchetti AppImage non hanno una sandbox. Però puoi eseguire un pacchetto AppImage tramite un programma chiamato FireJail ed avere quindi la sandbox fornita da FireJail. Ma questo è un discorso applicabile a qualsiasi eseguibile in realtà. Ultima differenza tecnica dei tre formati è legata ai repository. Come ben sappiamo, un pacchetto AppImage è un unico file che rende eseguibile ed avvi. Non esiste un repository né tantomeno un package manager per AppImage e questo rende l'aggiornamento dei pacchetti un problema. D'altro canto, se vuoi una versione specifica di un software e tenerti proprio quella versione lì, allora AppImage è il formato ideale. Flatpak ti permette di avere più repository configurati. Lo standard de facto è flathub.org, ma alcune distribuzioni come per esempio Fedora ed ElementariOS usano i loro propri repository e puoi usare tutti quei repository contemporaneamente. Snap ti permette di avere un solo repository configurato. Di default questo repository è snapcraft.io, ma può essere configurato un altro volendo. Dopo aver analizzato le differenze tecniche dei tre pacchetti e visto i vantaggi e gli svantaggi di ognuno di questi, la domanda nasce spontanea. Ma perché c'è tutta questa negatività nei confronti dei pacchetti Snap? Beh, prima di tutto siamo su internet, e su internet ci piace odiare. Purtroppo è diventato la norma leggere commenti e post che vanno contro qualunque cosa facciano Canonical e Red Hat. Triste ma vero. La seconda ragione per cui c'è tutta questa negatività nei confronti di Snap è pura e semplice ignoranza. Purtroppo tutto il discorso tecnico fatto poc'anzi non sono in molti a conoscerlo e quindi pensano che tutto quello che può fare Snap lo può fare meglio Flatpak. In più, vista la tendenza di Canonical ad iniziare progetti che vanno in competizione con quello che fanno tutte le altre distribuzioni Linux per poi abbandonarli e seguire quello che fanno tutti gli altri vedi per esempio la fine che hanno fatto Upstart, Unity e Mir per esempio alcuni pensano che Snap farà la stessa fine e che verrà presto abbandonato da Canonical a favore di Flatpak. Questa visione, per quanto possa sembrare a prima vista credibile in realtà non è possibile non allo stato attuale delle cose. Mentre Upstart, Unity e Mir avevano software concorrenti che implementavano tutte le loro funzionalità in maniera migliore Flatpak non implementa tutte le funzionalità di Snap né ha intenzione di farlo. Fintanto che non emergerà un formato di pacchetti che permette di avere più di un eseguile per pacchetto che possa pacchettizzare qualsiasi tipo di software e non solo applicazioni e che abbia la sandbox opzionale Snap rimane l'unico formato con tutte queste caratteristiche. Terza ragione, sempre legata all'ignoranza è che i detrattori pensano che non ci siano alternative allo store snapcraft.io e quindi temono che Canonical possa avere un controllo monopolistico riguardo alla distribuzione di software per Linux. Anche questo non è vero. Quando Canonical ha abbandonato Ubuntu Touch e ha rimosso tutte le sue app da snapcraft.io la community ha creato OpenStore.io come SnapStore per la continuazione di Ubuntu Touch sviluppata dalla community. Quindi, così come è stata possibile la creazione di OpenStore.io è altresì possibile la creazione di tutti gli SnapStore alternativi che desideri. Il motivo per cui non abbiamo SnapStore alternativi a snapcraft.io al momento è che snapcraft.io fa il suo lavoro egregiamente e Canonical non ha abusato della sua posizione. Quindi questa negatività è tutta ingiustificata? Beh, la maggior parte lo è, come abbiamo visto per tutto il corso di questo video. Però snap non è perfetto. Ogni pacchetto snap ha un suo mount point e questo significa che se tu esegui un comando mount per vedere i filesystem montati ti compaiono anche tutti i mount point dei vari pacchetti snap. Ma soprattutto, lo svantaggio principale di ogni applicazione pacchettizzata snap è il tempo del primo avvio che è decisamente più lento rispetto alla stessa applicazione pacchettizzata flatback o upimage. Canonical, dal canto suo, sta spingendo i pacchetti snap in una maniera che non tutti considerano onesta. A partire da Ubuntu versione 20.04 il pacchetto dev di Chromium non è nient'altro che uno script per installare la versione snap di Chromium. A partire da Ubuntu 22.04 la stessa sorte è toccata al pacchetto dev di Firefox. Questo ha fatto storcere il naso a molte persone primi fra tutti i maintainer di Linux Mint ma anche diversi youtuber che trattano Linux. Dal canto mio, invece, penso Gli snap di Chromium e Firefox funzionano benissimo ed il formato in cui sono pacchettizzati non è per nulla importante dal punto di vista di un utilizzatore. L'unica differenza dal punto di vista dell'utilizzatore è quella del tempo del primo avvio. Ma anche lì, sul mio partotile del 2013 con SSD SATA Firefox pacchettizzato snap al primo avvio ci mette circa due secondi direi più che accettabile. Canonical avrebbe fatto meglio ad utilizzare le versioni flatback di Chromium e Firefox di default Ubuntu? A mio avviso sì, ma questo non significa che le corrispettive versioni snap siano così male come dicono in molti. E se proprio vogliamo essere pedanti l'idea di utilizzare Firefox pacchettizzato come snap su Ubuntu 22.04 è partito dalla stessa Mozilla, non da Canonical ma questo è un altro discorso. Concludendo Abbiamo visto le differenze tecniche tra i vari formati di pacchetti ed abbiamo visto che tutti e tre i formati hanno i loro campi di applicazione. Flatback, per quanto ottimo, non è in grado di far girare tutto ciò che è in grado di fare snap. AppImage è un mondo un po' a sé stante ma utile se vogliamo avere un programma di una versione ben specifica. Per esempio, per montare i miei video io utilizzo la versione 0.1 di Olive pacchettizzato come AppImage perché mi trovo bene con quella specifica versione. Snap è il formato più flessibile e con più campi di applicazione dei tre ma gestito e soprattutto pubblicizzato in maniera non ottimale da parte di Canonical. La cosa bella però è che indipendentemente dalla distribuzione Linux che stiamo utilizzando possiamo installare ed utilizzare pacchetti in tutti e tre i formati contemporaneamente scegliendo pacchetto per pacchetto il formato che fa più al caso nostro. Spero che questo video abbia fatto un po' di chiarezza sulla situazione dei pacchetti snap e sul perché Canonical non ha abbandonato i pacchetti snap a favore di Flatback. Se ti interessa approfondire l'argomento ti lascio in descrizione i link a qualche blog post a riguardo. Grazie dell'attenzione ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odyssey trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao! Ecco quindi che Snap, Flatback e AppImage ti consentono ti consentono bravo se hai scritto un plugin audio per una digital world da 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 che